musica 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 amore basta fermati guarda cambiamo posizione quale? non lo so facciamo un 69? come che? come che? il 69 è una posizione famosissima 69 e io che devo fare? il 6 o il 9? no 69 è una posizione speculare spero speculare in che senso? fermati ti spiego sei al contrario va bene non tu sei al contrario no prendi il 6 lo leggi al contrario diventa yes no prendi il 6 6 lo capovolgi e diventa un 6 capovolto uh missionario musica pronto musica eheheh ahahahahahahah è il paglione musica 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 Grazie per la visione!